Uno dei time frame che utilizzo da sempre con più efficacia è proprio il time frame a 4 ore. Ho fatto un video simile a questo svariati anni fa ma relativo al time frame daily e oggi mi sembrava interessante portare la mia esperienza e quelle che sono le caratteristiche che possono portare un'efficacia quando si fa trading appunto sul grafico a 4 ore. Una delle primissime caratteristiche che possono avvantaggiare il trader, almeno così è per me, è la questione degli orari prestabiliti perché abbiamo degli orari in cui la candela a 4 ore chiude e quindi io tendenzialmente vado a operare esclusivamente quando sta per chiudere. Quindi se ho pianificato la giornata il mattino e so che cosa voglio vedere, so già se si viene a creare una determinata price action in un determinato livello su un determinato trend che cosa fare. Il time frame a 4 ore ha fusi orari differenti a volte per alcuni broker. Io noto che bene o male la price action rimane simile se si è in grado di leggerla con un po' di acutezza e un po' di profondità. Devo dire però che il 4 ore che io tendo un po' a preferire è quello che ha la chiusura della candela alle 9 della mattina, alle 13, alle 17 e alle ore 21 per vedere proprio la giornata di trading, almeno nella sessione europea e americana. Alla fine di queste sessioni io so che andrò a vedere ovviamente quello che è la chiusura della candela e saprò come comportarmi. E questa caratteristica impatta su un secondo punto che voglio portarvi, ovvero il set and forget trading, cioè il set e dimentica. Non devo stare al monitor tutto il tempo, tutto il giorno per far trading, ma andrò una volta, ripeto, pianificata la giornata. Io solitamente questo lo faccio dalle 8 e mezza alle 9 e poi alle 9 tra l'altro la trading room del nostro membership, mentorship, price action insider. Quindi poi vado a rivedere quello che mi sono un po' pianificato. Diciamo che poi è un inserire la posizione, inserire l'ordine e dimenticarselo almeno fino alle 4 ore successive, quindi fino a più o meno la chiusura della candela ovviamente che ha fatto partire un possibile trade. Ma anche se non sono in posizione, vado esclusivamente quando c'è la chiusura di candela, quindi diventa proprio un set and forget, cioè non sto al monitor costantemente nel momento in cui ho una posizione. La inserisco, la setto, un ordine pendente, trade a mercato, va bene, però poi sarà lei a doversi muovere. Ovviamente io non posso controllare il mercato, l'unica cosa che posso controllare è me stesso, quindi andrò a rivedere il grafico magari mezz'ora prima della chiusura della candela, a volte mi succede di andarci anche un'oretta prima. Però mediamente posso fare così ed è una delle gestioni più interessanti per chi impatta su un ulteriore punto che è la gestione emotiva. Diciamo che la gestione emotiva in questo caso, con questo tipo di time frame, impatta meno, può impattare meno, perché appunto non dovendo prendere decisioni continuamente e non dovendo anche, diciamo, rimanere davanti al grafico dove ci possono essere movimenti anche molto avversi al nostro trade o, diciamo, a favore del nostro trade che possono portarci, diciamo, a volte in una gestione emotiva poco efficace. Ecco, la questione del set and forget trading va a impattare ovviamente anche su una gestione emotiva sicuramente migliore, più razionale. Altri due punti che vanno sempre tutti concatenati ovviamente uno con l'altro è il mantenimento, la capacità, la migliore capacità di mantenere focus e concentrazione e il rispetto del piano di trading. Sono due punti separati ma insieme. Ovviamente il fatto di non avere troppe cose e guardare costantemente il mercato ci permette di mantenere una concentrazione e un focus appunto sul mercato migliore. Io so che ho quegli X mercati che non devono essere troppi ovviamente, io ne ho 8, ma insomma quegli 8 mercati e so che ogni chiusura del 4 ore so che cosa voglio vedere, quindi mantengo il focus, non fuoriesco dal mio, come dire, dal mio tracciato perché so che lì se starò disciplinato e aspetterò il momento ci saranno sicuramente delle ottime opportunità. E ovviamente questo va a concatenarsi con il rispetto del piano di trading, rispetto della pianificazione. Come vi dicevo prima io ogni mattina prestino faccio una pianificazione della giornata andando a inserire, a capire insomma qual è intanto la tendenza che cerco principalmente di seguire ovviamente non sempre ci sono momenti in cui magari anche un'inversione può essere interessante ma mediamente cerco di seguire quella che è la forza o la debolezza di quel mercato che non significa per forza stare nel trend di fondo ma stare sulla debolezza e la forza di quel momento attraverso anche l'uso del tracciare dei livelli importanti di prezzo che sono esclusivamente segnati sul grafico a 4 ore. E qui vengo appunto all'ulteriore caratteristica interessante che io ogni mattina, mattina presto, ripeto, vado a segnarmi quelle zone dove ci possono essere stati maggiori interessi, dove c'è i maggiori blocchi di ordine dove ci sono state veramente situazioni interessanti di acquisto e vendite classici livelli chiave però su 4 ore e vi posso assicurare che questi livelli segnati con una certa cognizione di causa possono essere davvero molto molto efficaci poi nell'ottica di trading quindi poi io aspetto la mia price action non compro e vendo il livello direttamente anche se a volte devo dire che potrebbe essere anche questo efficace io aspetto sempre una price action che mi confermi quello che era la mia idea e quindi oltre a questi livelli di interesse rilevanti sono veramente rilevanti per la giornata stessa o per i 1, 2, 3 giorni successivi è ovvio che una price action sul 4 ore non è né troppo veloce né troppo lenta e ci offre però una visione comunque accurata perché il cosiddetto rumore di fondo è sicuramente minore di un grafico a un'ora o di un grafico a 15 minuti però la velocità non è così rallentata come su un grafico daily o un grafico weekly ed ecco che vengo a un altro punto molto interessante del time frame a 4 ore che ci permette di fare un trading più sniper, più di fino che cattura spesso movimento di una giornata o 1, 2, 3 giorni e ci permette quindi di fare delle operazioni che non sono né troppo lunghe ma neanche troppo repentine ci dà proprio il tempo di prendere una gamba di movimento che spesso è una grande gamba che può portare veramente profitto oltre al fatto che io almeno ormai ragiono così se il mercato vedo che dopo le prime 4 ore o se non me lo fa vedere subito nelle prime 4 ore nelle successive inizia a fare delle cose che non mi interessano e non mi piacciono io chiudo solitamente il trade o comunque inizio sempre a spostare gli stop quindi con molta calma e razionalità riesco a gestire la posizione direi nel brevissimo termine quindi profitti di brevissimo ma con una visione molto accurata come price action e quindi per concludere direi che il 4 ore ci permette di fare un trading molto molto efficace per esempio qui nel canale sto portando quella rubrica che da un conto da 3.000 euro sto cercando di farlo salire beh sto continuando a farlo salire poi faremo nelle prossime puntate vi farò vedere insomma cosa sto facendo ovviamente sempre molto tranquillamente con dei rischi molto molto ponderati e piccolini però quel conto lo sto lavorando con tutte entrate su 4 ore per esempio come stiamo facendo poi nel mentorship e stiamo facendo soprattutto negli ultimi 3 mesi dei risultati direi molto molto interessanti ecco trading efficace il trading su 4 ore fatto con la price action come la tradiamo noi di Airforex è davvero efficace può darci una cadenza molto frequente di profitti con delle perdite direi spesso mantenute piccoline proprio perché almeno per quanto mi riguarda a livello caratteriale è un time frame su cui mi trovo molto bene per la sua velocità lentezza e per la sua appunto accuratezza e l'impatto che ha sulla mia diciamo gestione emotiva e caratteriale non ci sono altre cose da dire per oggi vi ricordo che tra un mesetto farò faremo noi di Airforex un corso che si chiama 4HPA tutto online e registrato quindi chi non può vederlo lo potrà vedere successivamente o chi lo ha visto lo può rivedere quante volte vorrà ed è acquistabile sul nostro sito airforex.com quindi se si vuole approfondire la operatività con la price action sul grafico a 4 ore può iscriversi a questo corso online il 4 dicembre prossimo a questo punto non mi resta altro che augurarvi un buon trading simple e trovarvi nel prossimo video ciao, buon trading simple grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti